Cosa ci faccio a meno 5 metri di profondità dopo aver eseguito una giornata intera di tuffi in apnea a respirare ossigeno puro sotto il mio gommone? Ve lo racconto in questo video. Ben ritrovati amici, siamo di nuovo qui su Fragassa per un'altra giornata di pesca con Alberto, mio mitico amico, e il grande Edo. Periodo di massima forma mia, ormai sono 2-3 mesi costanti di tuffi in apnea, riesco a fare tuffi abbastanza lunghi, pescare a profondità comunque importanti. Avere uno stato di forma ottimale mi permette ancora più di fare le cose in sicurezza, ma c'è il rischio taravana, questo incidente che è un po' l'incubo di tutti gli apneisti, soprattutto pescatori che pescano profondi, come quello che ha avuto Luigi qualche mese fa. E quello è sempre un po' un grosso punto interrogativo, e quindi bisogna stare molto molto attenti, per questo già da un po' di anni faccio una roba che spesso non faccio vedere su YouTube. Sto parlando dell'ossigeno, spesso io abordo l'ossigeno puro, che è questa bombola qui. In realtà è pericolosissimo perché, come molti di voi ben sapranno, l'ossigeno diventa tossico già dai 15 metri di profondità in poi. E quindi se si dovesse respirare ossigeno puro già a 15 metri, bastano pochi minuti e diventa tossico, ci si spegne, ci si addormenta senza proprio rendersene conto. Io la utilizzo non sempre, ma spesso dopo, dopo, quindi mai prima, la utilizzo dopo giornate impegnative, dopo giornate in cui mi dedico a fare tuffi profondi, a 5 metri di profondità, a fine giornata, per smaltire un po' di azoto e per recuperare bene, e per essere sicuro di non avere strascichi nei giorni successivi di azoto, di microbolle, eccetera, respiro un po' di ossigeno puro. Quindi per questioni assolutamente di prevenzione e sicurezza. Altri usi sono pericolosissimi. Quindi nulla, oggi andremo a pescare, ci faremo la nostra classica giornatina di pesca. Siamo in mezzo al mare, molto lontani dalla costa, su delle secche che risalgono dai 50-55 metri, risalgono a 35 metri. Quindi sono tutti tuffi abbastanza impegnativi, dove si parte da un fondale di 32-33-35 metri, ma facilmente ci si può ritrovare anche a 45 metri di profondità. Oggi l'acqua è molto limpida, è il periodo delle ricciole, ci sono identici, in questo posto sono sempre abitate dalle cernie e a fine giornata, siccome sicuramente arriverò stanco, respireremo un po' di ossigeno puro e vi farò vedere più avanti. Quindi ora non perdiamo altro tempo, mettiamoci la muta e iniziamo questa fantastica giornata. Ed eccoci qui di nuovo sott'acqua. Qui sto scendendo su un fondale che se sarete stati attenti nei video precedenti lo avrete già visto, è una tana che conosco. Come potete vedere mi compare subito una bella cernia che punto, ci faccio diciamo un agguato. Il pesce non scoda subito, rimane comunque per un attimo curioso della mia presenza. Non so perché perdo l'attimo, il pesce scoda e non lo vedo più. Eppure il pesce era abbastanza vicino e sono sicuro che se avessi sparato sicuramente lo avrei preso. Ho ancora fiato e provo a cercarlo tra i massi, ma con scarsi risultati. Il pesce è sparito. Cerco comunque di guardarmi intorno con la massima attenzione. Ho ancora fiato quindi provo a scavallare un po' il masso e guardare nei vari ingressi, ma nulla, questo tuffo purtroppo non mi porterà alcun risultato. Perché non l'ho sparato? Boh, era vicinissima, l'avrei fulminata. Ci riproveremo. E infatti ci ho riprovato, purtroppo vi dico già con scarsi risultati. Sono sceso con il 75 e con la torcia questa volta. Ho visto prima in uno dei buchi principali della Tana, ma non ho visto nulla. E poi, sempre nella stessa apnea, sono andato a vedere nel punto in cui proprio l'ho vista sparire. Quest'altra, diciamo, piccola galleria sulla sabbia. Fondale tipico e Tana tipica delle cernie bianche. Però nulla. La giornata procede con diversi tuffi senza vedere nessun pesce. Qui sto scendendo su una zona dove spero di avvistare i dentici. Infatti mi apposto. Inizialmente non vedo nulla, ma dopo un po' in lontananza inizio ad intravedere delle sagome. Sono i dentici. Mi sembrano anche di pezzatura importante. Si tengono però molto molto larghi. Quasi proprio al limite della visibilità. Sono abbastanza scoperto. Solo che una delle tecniche che cerco di eseguire quando vedo i dentici, solo dopo che iniziano a girarmi intorno, a volte poi mi nascondo. Cercando e sperando di incuriosire così i dentici. A volte questa tecnica dà degli ottimi risultati, incuriosisce il pesce che si avvicina ulteriormente. Ma purtroppo non in questo caso, dove i pesci continuano a girarmi larghissimi. E dopo qualche secondo mi rendo conto che se anche dovessi tirare l'apnea, i pesci restano lì. Quindi decido di non stare tanto giù e di risalire. Tranquilli ragazzi, le catture arriveranno anche in questo video. Mi sembra giusto però farvi capire, trasmettervi che non tutti i tuffi sono proficui. Ma che dietro ai video delle catture che vedete sul mio canale, ci sono tantissimi, tantissimi tuffi invece che non danno alcun risultato. Questo è un tuffo abbastanza impegnativo. Sto scendendo su una caduta che da 35 sprofonda oltre i 40. E infatti nella parte più profonda intravedo subito una bella cernia bianca. Che purtroppo nel video non si vede benissimo. Lo vedrete quando scoderà via. Provo a fargli un agguatino però percepisco che è un pesce molto diffidente, che scoda subito e si sprofonda ulteriormente. Non voglio andare a 45 metri a provare un tiro azzardato che magari poi si intana e dovrò poi lavorare il pesce a 45 metri. Valuto subito di lasciar perdere e ritornare su. E' difficile oggi. Sono le 6 del pomeriggio, io ancora non ho preso un pesce. Giornata strana, tanti tuffi, acqua bella, limpida. Adesso stiamo andando a provare su un posto jolly, a largo, fuori fuori fuori. Avremo due tuffi perché sta per tramontare. La proviamo. E' un tentativo molto azzardato. Ci aspetta un'altra 2 miglia di navigazione. Siamo già parecchio fuori. Calabria! Questo posto è in Calabria. Di fronte a Gallipoli ma è in Calabria però. Guardate soprattutto a largo in questo periodo quante cassiopee ci sono, queste meduse gialle innocue. Mi raccomando, quando le vedete potete stare tranquilli. Grazie fratello. Ultimissimo tentativo. Ormai è tramonto, è quasi buio. E comunque siamo arrivati sullo spot. Un posto in cui è tutto piatto ma c'è questa microzona con questi spacconi. Vedo subito una bella cerniotta intorno ai 3 kg. E' ferma in candela. Questa volta decido di non esitare come ho fatto a inizio giornata e la assicuro subito. Questo tuffo è stato eseguito sul filo dei 40 metri. Questa volta decido di non esitare come ho fatto a inizio giornata. C'è ancora un po' di luce e decido di fare l'ultimo tuffo su uno spot vicino. Guardate che bei colori rossi che ci sono sott'acqua. Ovviamente questi non sono i colori che vedo io. Questa è la color correction. Senza, guardate come si vede. E questo è con color correction. Purtroppo io però quando sono sott'acqua non vedo così rosso. Vedo un dotto che da lontano mi fissa. Mi avvicino lentamente all'agguato. Capisco che può scodare da un momento all'altro. Reduce sempre dell'errore che ho fatto a inizio giornata. Mi assicuro subito il tiro anche qui. E chiudo la giornata con due vescini. Mi sono salvato in calcio d'angolo. Come vi dicevo a inizio video, ecco, è arrivato il momento di respirare un po' di ossigeno. Mi raccomando, vi ribadisco, è assolutamente pericoloso. Non dovete assolutamente imitare queste cose. Mi date voi un countdown di 5 minuti. Vi posso assicurare che dietro questi gesti che potrebbero sembrare pericolosi c'è davvero tanta esperienza. C'è tutta la mia vita che ho dedicato a questa mia passione. Sono in questo ambiente praticamente da quando ero bambino. Sono seguito da medici iperbarici, da scienziati, da ricercatori. Le cose che faccio sono ovviamente guidate, consigliate tramite medici iperbarici. È assolutamente pericoloso e rischiosissimo imitarmi. Io queste cose ve le faccio vedere perché ho deciso di raccontarvi tutto. Il mare è la mia vita. Voglio portarvi con me in tutte le mie esperienze. Però dovete assolutamente fare attenzione e non imitare. Grazie mille ragazzi per aver visto anche questo video, per il vostro supporto. Lasciate un commento se vi fa piacere. Iscrivetevi al canale, è il modo migliore per supportarmi. E noi ci vediamo prestissimo per un altro video. Grazie. 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 Grazie.